Ciao ragazzi, oggi parliamo del fantastico GC16 Predator della G&G. Tutti conoscete la G&G Armament, una delle più grandi fabbriche al mondo. Mi è stato fatto notare che avevo fatto poche recensioni sulla G&G. Benissimo, partiamo subito col primo. Stiamo parlando del fantastico design moderno che la G&G sta introducendo nei suoi fucili. E in questo caso abbiamo un modello che si ispira alle linee dei nuovi RIS con questo wire cutter che è il tagliafili. Abbiamo visto già una recensione sul Crytek che ha introdotto questo tipo di RIS sulla linea dell'Army Sport. Ma parliamo del G&G e concentriamoci sul G&G. Questo modello è un modello particolare, non solo per l'estetica ma anche per quelle che sono le dotazioni interne e tutta una serie di accessori che ormai vengono distribuiti sempre di più un po' ovunque. Parliamo subito della scatola. La scatola è una bella scatola ben curata con cartone fuori, bei loghi, bel disegno con tutte le caratteristiche scritte e poi internamente abbiamo questo polistirolo sagomato per contenere precisamente tutti gli accessori che vengono forniti. Abbiamo le istruzioni, un pulisci canna, il suo silenziatore in dotazione se volete smontare quello di plastica e usarlo a casa e infine il suo caricatore. Il fucile è solido, il peso è veramente ridicolo, sono veramente leggeri come fucili e la solidità generale è buona. Abbiamo qualche gioco sul fondo e sul caricatore, sul calcio e sul caricatore ma microscopici, un po' di più direi sul caricatore. La colorazione del fucile è un verde Green Hunter, così almeno l'hanno chiamato quelli della G&G. È ben realizzata, leggermente satinata. I loghi, i loghi sono della G&G, non ha loghi di marche o di armi reali ma da mai. Ha sempre messo i suoi G&G Armament sia sul lato destro che sul lato sinistro però quelli sul lato sinistro sono soltanto dei carving, degli engraved, cioè sono scavati all'interno del corpo ma non hanno colore. Mentre sul lato destro sono in bianco e sono al laser. In questo fucile la plastica è rappresentata dal calcio, dall'impugnatura e dal caricatore. Tutto il resto è una serie di leghe di metallo. E passiamo al rail. Il rail è, come abbiamo già detto all'inizio, molto molto accattivante con questo sistema di K-MOD che ormai va per la maggiore, sia sui due fianchi che sulla parte inferiore in modo da poterci attaccare tutti i miliardi di accessori che volete. Le tacche di mira sono in metallo e sono belle robuste, forti tutte e due, quindi si abbattono difficilmente e sono regolabili sia sull'alzo che sulla deriva in maniera dettagliata e gli scatti sono molto piacevoli. Lo spegnifiamma di plastica arancione è uno spegnifiamma di quelli grossi e potrebbe decisamente essere quello giusto per questo fucile in quanto spunta di un pezzo. Se invece ci montate il suo, beh, allora rimanete un pochino delusi perché entra troppo, a mio avviso, all'interno del fucile. Il corpo, l'upper e il lower sono assolutamente moderni, come taglio tutto squadrato, tutto super futuristico. La sicura è ambidestra, ormai va per la maggiore anche la sicura ambidestra e è solida, ben realizzata. Mi ricorda proprio la stessa solidità del Crytek oppure del VFC. Gli scatti sono abbastanza netti, anche se un po' in centro mi manca, ma non è proprio molle, è abbastanza solida ed è in metallo. Il calcio è a sei posizioni, ma c'è da dire subito una cosa negativa per questo fucile. Io non sono riuscito a inserirci dentro una batteria delle mie. Nonostante abbia delle batterie tradizionali, quelle di piccola dimensione, dovrete cercare delle batterie ancora più corpi. Perché nel momento in cui inserite la batteria, questa spunta di un centimetro, un centimetro e mezzo. E non potete metterla nel tubo del fucile perché è già occupato interamente dal MOSFET. A parte questo piccolo dettaglio, diciamo che il calcio è uno dei calci che più preferisco. Ultimamente devo dire che lo stanno mettendo un po' su tutti i fucili della GNG ed è un calcio molto bello e molto pratico anche da un punto di vista tecnico perché ha tutta una serie di scomparti per le batterie 123 e poi il modo in cui si apre è veramente geniale. In tre secondi voi schiacciate, lo muovete di lato e potete accedere al vostro vano, inserire la batteria piccola che entra dentro e chiudere in tre secondi, cambiare la vostra batteria. E che hanno sbagliato un po' queste guancette, sono troppo piccole, basta farle leggermente più grandi. Gli attacchi sono ambidestri per quello che riguarda quello posteriore e invece nella parte anteriore ve lo dovrete inventare perché non è presente. Ma essendo guerrista e un K-Mod potete decidere di attaccarci anche un portacinghie se non vi basta quello centrale. Anche nel calcio è presente un foro per poter attaccare i QD veloci. Per quello che riguarda l'op-up abbiamo un op-up tradizionalissimo, ok? Non è di quelli a ghiera. Bella invece è la leva d'armamento a butterfly. Altre caratteristiche particolari sono l'impugnatura molto molto moderna e anche la guardia del grilletto che è anche lì sagomata e customizzata. Ho fatto una recensione ultimamente dell'XTC della Modify, potete andare a visionarla se vi interessa. E sullo stile di questi fucili moderni è implementa qualche elemento tecnico in più. Ma siamo anche qui di fronte a un fucile che ha delle caratteristiche interessanti per quello che riguarda l'elettronica. Infatti la G&G ha introdotto in tutti i suoi fucili nuovi, quasi tutti, l'ETU che è la centralina elettronica insieme al MOSFET, ovvero il grilletto elettronico che, devo dire, ha un'ottima risposta. Mentre il Gearbox è un Gearbox di generazione 2 tradizionale senza la molla a sgancio rapido. Il caricatore è un caricatore di plastica a rilascio decisamente libero perché già ve l'ho spiegato che balla un po'. Eyecap, non è un caricatore monofilare per cui tradizionale. Si inserisce abbastanza bene ed è molto leggero. Andiamo a sentire come gira. Partiamo dal singolo. Guardiamo la reattività. Raffica. E infine la corsa del grilletto. Come vi ho già spiegato, essendo che c'è la E2, che è un grilletto elettronico, la corsa è praticamente inesistente, voi avete una delicatezza infinita per cui avete una sensazione veramente, veramente dettagliata del corpo. Questo c'è a chi piace, c'è a chi no. Ad ogni modo, questi fucili hanno questo implementato. Un'altra cosa da dire che mi stavo dimenticando è che c'è il rilascio del caricatore sia dal lato destro che dal lato sinistro per chi ama rilasciarlo col pollice. Ed è fatto bene perché è ben nascosto in modo che quando lo portate addosso non vi sgaccia il caricatore. Andiamo a vedere la prova di tiro, come si comporta. Allora ragazzi, come avete potuto vedere, l'op-up funziona benissimo come tutti i G&G. I G&G hanno degli ottimi gommini e hanno degli ottimi op-up. I fucili tirano benissimo e escono perfettamente sotto il jowl. Veramente, veramente ben realizzati e ottima resa del colpo. Anche se il rato non è pazzesco, non è dei più bassi. In conclusione, ragazzi, è un fucile moderno dall'aspetto aggressivo. Il rapporto qualità-prezzo è buono. I materiali sono discretamente buoni. La plastica è poca. Metallo domina. E soprattutto, la precisione e la parte elettronica interna inserita fanno di questa replica una bella replica. Anche per uno un pochino più avanzato. Non direi che è proprio la prima replica da comprarsi. Ok, ragazzi, da Pio3 è tutto. Grazie di avermi seguito. Diffondete questo video, mi raccomando. Seguitemi, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. E ci vediamo alla prossima review. Ciao là! No, questa però è da far vedere. Cioè, io alla fine ho lavorato così. Questo è stato il modo in cui ho dovuto sparare. Perché non entra. Non ne vuole sapere. Non entrano. Cioè, ma che cacchio hanno fatto quelli della G&G? Ma come... Cioè, non ti sono mai passate delle batterie così per le mani? Cioè, ma hanno delle batterie più piccole, leggermente? Questa si gonfia un attimo e non entra niente. Boh! E non è una batteria assurda. È una cacchio di batteria tradizionale 1200 piccolina. Non è... Guarda, 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 guarda la mano. Non è grossa. Gingi, Gingi, che cacchio mi combini. Gingi, che cacchio mi combini.